Allora, incominciamo, 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 incominciamo con il bonus di 200 euro in busta paga di cui si parla tanto in questo periodo, in questo momento, fatemi vedere se riesco a cambiare, ah ok, eccolo qua, ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti, non vi saluto, vado avanti abbastanza dritto, poi ci sarà tempo dopo per i convenevoli. Allora, c'è il bonus di 200 euro in busta paga, non è ancora stato definito, ma pare che questo bonus non poi riguarderà, ci sono ancora, stanno ancora discutendo, non è ancora stato definito perfettamente, ma pare che questo bonus non riguarderà soltanto le persone che hanno un lavoro, un impiego, ma pare che verrà dato anche forse ai disoccupati che ne faranno richiesta, ok? Comunque, diciamo, diciamo che se si ha un reddito che è inferiore ai 35.000 euro, quindi nel caso di single si chiama reddito della singola persona, nel caso di famiglie chiaramente è reddito familiare, questo è evidente. Se si ha un reddito annuale che non supera i 35.000 euro, chiaramente si parla di lordo, si parla sempre di lordo quando si parla di redditi, ok? Allora si può ottenere in busta paga un bonus, una tantum di 200 euro, ok? Una tantum non è che ogni mese vi danno 200 euro, cioè un bonus di 200 euro, ok? Per i dipendenti e per i pensionati questa cosa dovrebbe avvenire in automatico, cioè non è necessario che si facciano domande di nessun tipo, i soldi vengono erogati in automatico, in base a probabilmente la dichiarazione di redditi dell'anno scorso, dell'anno precedente. Cioè la dichiarazione di redditi di quest'anno basata sui redditi dell'anno precedente, ok? Ovviamente come sempre. Mentre per gli autonomi la cosa dovrà essere fatta su richiesta. Come verrà inoltrata questa richiesta? Non è ancora chiaro, ma è probabile che dovrà essere fatta tramite l'Inps, probabilmente quindi ci sarà una procedura sul sito dell'Inps per fare questa domanda, probabilmente. Non è ancora chiaro, non è ancora chiaro come si farà a fare tutto questo perché stanno ancora discutendo dal punto di vista pratico, però è interessante sapere che se guadagnate meno di 35.000 euro l'anno avete diritto ad una tantum, un bonus di 200 euro in busta paga, ok? Sembra poi che sia possibile riceverlo, come dicevo, anche da parte di chi è disoccupato, anche da parte di chi ha il reddito di cittadinanza, eccetera. Poi nei prossimi giorni verrà definito in maniera più chiara probabilmente. Probabilmente ricaricandolo tra qualche giorno su YouTube, queste notizie saranno, per gli utenti di YouTube che ci stanno guardando, saranno già state divulgate, le notizie avranno già deciso in merito a questo, ok? Quindi bonus di 200 euro in busta paga. Questo è il primo, il numero uno, il primo bonus che possiamo avere e che è stato confermato per tutto il 2022, ok? Tenete d'occhio, quindi, se siete autonomi, siete dell'Inps, perché probabilmente sarà lì che dovrà essere inoltrata una domanda, benissimo. Poi abbiamo il bonus psicologo quest'anno, ok? Non li ho messi in ordine di importanza, li ho messi in ordine sparso questi bonus. Allora, visto che la pandemia ci ha segnati psicologicamente in maniera abbastanza importante, questo è evidente perché la maggior parte delle persone ha subito comunque degli obblighi, delle restrizioni, e è possibile chiedere, è possibile andare dallo psicologo per farsi in qualche modo una chiacchierata, vedere di capire un po' come ha influito la pandemia su di noi, se stiamo bene, se stiamo male, insomma farsi una revisione dallo psicologo che è un po' un tabù ancora nei tempi moderni, ma è un po' come andare a farsi l'analisi dal sangue dal medico, ok? Andare dallo psicologo. Non è una cosa da considerare normale come non è da considerarsi normale andare dal dottore, bisognerebbe non andarci, diciamo, in qualche modo, no? Bisognerebbe non avere problemi e non andarci, ok? Però, diciamo, è una cosa che dovrebbe essere un po' sdoganata all'andare dallo psicologo. Allora, si ha un rimborso parziale delle spese sostenute, ok? Se si ricorre ad un psicologo specialista, quindi deve farvi la fattura in qualche modo, ok? Non deve essere uno così. C'è una base minima di 50 euro che vengono rimborsate per ogni seduta, ok? Quindi se andate, lo psicologo vi costa, tipicamente, gli psicologi, psicologi, scusate, costano intorno ai 70, non meno di 70 euro a seduta, ok? Quindi avete un rimborso minimo di 50 euro a seduta, ok? Il totale che si può richiedere massimo sono 600 euro per ISE fino a 15.000 euro, 400 euro per chi ha l'ISE tra i 15.000 e i 30.000 euro e 200 euro per chi ha l'ISE tra i 30.000 e i 50.000 euro. Quindi, di fatto, comunque, un ISE di 50.000 euro è veramente molto elevato. Quindi, un paio di sedute rimborsate parzialmente dallo psicologo, fino a un tetto massimo di 200 euro, 400, 600 in base all'ISE, ce le possiamo fare rimborsare. Quindi, se vi rendete conto, vi accorgete che c'è qualcosa che non va, magari avete bisogno di fare una chiacchierata con uno psicologo, sappiate che, facendo l'ISE, poi è possibile chiedere il rimborso di quello che si è speso, poi presentando, naturalmente, chiaramente la fattura, perché sennò poi si vengono dei controlli, non avete la fattura, non vi danno i soldi, anzi, probabilmente vi multano addirittura, e avete questa serie di tetti massimi in base all'ISE. Andiamo avanti, andiamo un po' spediti, poi ci sarà tempo per chiacchierare. Il bonus a origino nido, già sapete che c'è, non è una novità, non è una novità di questo momento, diciamo, però dovete sapere che per gli asili nido e per le scuole di infanzia è possibile richiedere un bonus. Tra l'altro è possibile richiedere anche un bonus babysitter per i bambini che hanno età inferiore ai tre anni e che questi hanno, per la ipotologie o per altri motivi, non possono, ecco, diciamo, frequentare le scuole di infanzia e gli asili nido, ok? Però ci vuole un motivo valido, ok? Non è soltanto non li voglio mandare perché non voglio fargli indossare la mascherina, ok? Non è questo il senso. Ho messo che negli asili si indossi, ma perché non lo so, non ho figli che vanno all'asilo, alle scuole di infanzia, quindi non so. Però diciamo che la discriminante è questa, ok? Se non li stai mandando all'asilo o alle scuole di infanzia puoi chiedere un bonus per il babysitter nel caso in cui questo bambino, il tuo figlio, non possa andare per delle patologie particolari, quindi c'è proprio un motivo particolare per cui non può frequentare gli asili nido o le scuole di infanzia. Allora, di quanti soldi stiamo parlando? Stiamo parlando di un massimo di 3.000 euro l'anno in caso di ISE fino a 25.000 euro, ok? Poi si scende a 2.500 euro l'anno sempre per chi ha l'ISE tra i 25.000 e i 40.000, è chiaro che sono misure che aumentano in base alla povertà, quindi diminuiscono in base alla ricchezza che si ha, quindi l'ISE deve essere fatta, ok? Magari spengo due parole per dirvi che cos'è l'ISE perché magari non l'avete mai fatto. E poi si scende ancora e si spettano 1.500 euro soltanto a quelle persone che hanno l'ISE che supera un tetto dei 40.000 euro. Cos'è l'ISE? L'ISE è l'indicatore della vostra ricchezza o della vostra povertà in base a quanto voi siete ricchi o poveri, ok? Si può fare presentando una serie di documentazioni presso ad esempio un CAF, ok? Quindi andate presso un CAF, quello che tipicamente vi fa la dichiarazione dei redditi, oppure forse qualche commercialista ha la possibilità di farlo direttamente, però tipicamente si va ad un CAF a farlo, ok? Anche perché è gratuito andare a fare l'ISE, il CAF. Prendete appuntamento telefonico, quindi non presentatevi lì di persona perché non vi accolgono. Prendete appuntamento telefonico, andate e vi fate dire per telefono tutti i documenti che dovete portare, sono tipicamente la giacenza media del conto corrente, tutti gli immobili che possedete, la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, una busta paga, cose di questo tipo, ve lo chiedono, ok? E poi loro vi danno l'ISE. In base all'ISE avete un indicatore, 25.000, 30.000, 40.000, eccetera, eccetera, e in questo modo potete poi accedere a diversi bonus, ok? Quindi per questo è importante farlo l'ISE. Poi abbiamo l'assegno unico universale, ecco parlando di l'ISE, l'assegno unico universale è l'unico caso che spetta anche, sono gli unici soldi diciamo, che spettano anche a chi non presenta proprio l'ISE, ok? Allora, che cos'è l'assegno unico universale? Abbiamo già parlato in una live apposta, vi consiglio di andare a recuperarla sul canale YouTube e smettere di lavorare, punto niente, smettere di lavorare e basta, canale YouTube e avete la possibilità di ottenere questo assegno unico universale che viene dato a chi? Ad ogni famiglia che ha almeno un figlio di età inferiore ai 21 anni e per ogni figlio vengono dati minimo 50 euro. Tutte le altre detrazioni che c'erano per i figli a carico, no? A carico si intende che sono figli che vivono con noi ancora, quindi fanno parte del nostro nucleo familiare, che hanno meno di 21 anni d'età che c'erano nel 2021, tutte quelle detrazioni non ci sono più praticamente, tranne alcune che sono quelle che stiamo dicendo tra l'altro questa sera. Quindi non si possono più chiedere le detrazioni, sono tutte state sostituite dall'assegno unico universale, ok? Quindi se avete uno o più figli di età inferiore ai 21 anni e questi fanno ancora parte del vostro nucleo familiare, ok? Quindi vivono ancora con voi tipicamente, non sono indipendenti economicamente, potete avere un minimo di 50 euro per ciascun figlio. Questo anche se non presentate l'ISE, ma dovete fare la domanda sul sito dell'INPS, ok? Date sul sito dell'INPS, vi autenticate con speed e potete fare la domanda per ottenere l'assegno unico universale e vi arriva, ok? Adesso è già tardi per prendere i soldi di gennaio e febbraio, siete ancora in tempo per recuperare i soldi di marzo, quindi prendete quelli di marzo, quelli di aprile e incominciate a prenderveli poi di maggio, eccetera, perché la domanda per i primi due mesi dell'anno andava fatta entro marzo, scusate, ma siamo già a maggio. Ci può arrivare fino ad un massimo, anche se ci sono dei plus dopo, ma comunque diciamo fino ad un massimo di 175 euro per ciascun figlio per chi ha un'ISE inferiore a 15.000 euro, quindi l'ISE inferiore a 15.000 euro se è davvero molto povero, diciamo, però se sei povero e hai dei figli puoi avere fino a 175.000, scusate, 175 euro a figlio al mese, ok? Sono soldi al mese questi che vi danno, quindi non è che sono proprio pochissimi perché con 175 euro al mese per ogni figlio, insomma, ci fate ben ben la spesa e li fate mangiare, li vestite anche, senza troppe pretese, ma li fate mangiare e li vestite. Naturalmente ci sono dei plus, cioè ci sono delle aumenti ancora di importo, di denaro che potete ricevere se i figli hanno disabilità, oppure per le famiglie particolarmente numerose, quelle che hanno 4 o 5 figli. Questa è l'assegna unico universale, questa è una di quelle cose che non dovete sbagliare, dovete chiederlo se avete figli, ok? Perché se no poi tutte le detrazioni non ve le fanno più e sono soldi che vi accreditano sul conto corrente in automatico a questi, quindi ogni mese vi vedete questi soldi che vi crescono sul conto corrente e non dovete fare niente. Andiamo avanti, è un ordine sempre sparso, non per importanza, come dicevo e c'è il bonus per l'internet veloce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se passate da una connessione ad internet normale ad una connessione ad internet veloce, di quelle a banda larga, avete una detrazione per le spese sostenute che è un bono di 300€ che dura fino a 24 mesi, questo bonus di 300€. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vi danno, non una tantum, di 300€ e ci sono delle stime, ci sono delle stime che sono state fatte che più o meno, ciao a tutti i ragazzi, ciao al Penstock, ci sono delle stime che dicono che più o meno, mediamente, vai a coprire il 50% dei costi di attivazione e del canone dei servizi di connessione ad internet per due anni con questo bonus, ok? Circa per due anni copri la metà di quello che ti costa l'internet chiedendo questo bonus. Però naturalmente bisogna passare ad una connessione ad internet a banda ultra larga, quindi parliamo di connessione molto molto veloce, ok? Comunque potete chiedere questo buono da 300€. Poi abbiamo il bonus affitto, questo è molto importante per le persone che sono in affitto e che guadagnano poco, soprattutto se sono giovani, ok? Quindi avete un figlio che esce di casa e per la prima volta va in affitto e ha tra i 20 e i 31 anni, quindi parliamo di ragazzi che sono praticamente appena usciti dalle scuole superiori, diciamo più o meno, oppure appena usciti dall'università, anche tra i 20 e i 31 anni, più o meno così, quindi per agevolare il loro distacco dalle famiglie e iniziare una vita nuova, indipendente, a questi giovani spetta una detrazione fino a 2.000€ l'anno sull'affitto, che non è poco, se ci pensate sono più o meno 200€ al mese, una cosa così, ok? Più o meno, un po' di meno, ma più o meno 200€ al mese. Naturalmente però questi giovani non devono avere un reddito superiore ai 15.492,71€ lordi l'anno, ok? Quindi diciamo che questa cifra, siamo con 15.000€, siamo praticamente, sono quasi netti questi soldi, ecco diciamo, diciamo che i soldi in busta paga vengono tassati a partire dagli 11.000€ in su, quindi diciamo che c'hai 4.000€ su cui paghi le tasse, con un IRPEF probabilmente al 23% in questo caso, come scaglione, quindi parliamo di quasi un netto, consideratelo quasi un netto di 15.000€ l'anno, consideratelo, ok? Quindi parliamo di 1.000€ al mese, 1.100€ al mese, più o meno per farci due conti della serva in tasca. Quindi se siete un giovane o avete un figlio giovane o amici giovani o parenti giovani che hanno tra i 20 e i 31 anni e guadagnano più o meno 6.000, 1.100€ al mese, più o meno come conto della serva, sapete che questa persona, questo giovane, vive da solo, ok? Quindi ha un contratto d'affitto e ha un contratto d'affitto registrato alla gestione delle entrate, quindi assolutamente regolare, può prendere, può prendere fino a 2.000€ all'anno, molto importante, molto interessante. Insomma, vedete che ci sono una serie di, fino adesso, anche stiamo vedendo, ci sono una serie di possibilità di agevolazioni che poi alla fine messe insieme, alcune valgono per le famiglie, alcune valgono per i single, altre valgono per le coppie, messe insieme però, insomma, ci fanno tornare in tasca un po' di soldini che buttali via e regalagli tu allo Stato. Bonus prima casa per gli under 36, ok? Allora, voi avete meno di 36 anni, facciamo finta, un gioco, e acquistate un'abitazione, la comprate. Non è un brutto momento per acquistare un'abitazione, anche se gli affitti sono aumentati, scusate, i mutui sono aumentati, ok? Non è più come l'anno scorso o due anni fa, che i mutui ti ritiravano sulla schiena e prendevi mutui allo 0,5%, anche trovavi, e le cose stanno un po' cambiando, perché c'è inflazione, c'è incertezza, i mercati finanziari sono abbastanza crollati, sono crollati del 13% mediamente da inizio anno, ok? Dopo magari off topic vi parlo anche dei miei investimenti finanziari, come stanno andando, magari, a fine serata. Quindi, nonostante il periodo sia non proprio buono come quello, come un paio di anni fa, come un anno e mezzo fa, comunque ancora è un ottimo momento, cercando bene per contare un mutuo e comprare casa. Soprattutto comprare la prima casa, che ha già delle tasse agevolate sull'acquisto, sapete che comprate prima casa, pagate il 4% di tasse, se comprate invece la seconda casa, iniziate a pagare già il 9% di tasse varie, sul valore catastale. Ecco, se avete meno di 36 anni, vi spetta uno sconto, uno sconto sul registro, sull'imposta ipotecaria, e sull'imposta catastale, se avete meno di 36 anni. Un ulteriore sconto, quindi un'ulteriore agevolazione, se comprate la prima casa. Deve essere però prima casa, ok? Vuol dire che poi ci dovete andare a vivere, e deve essere la prima casa che comprate in quel comune di residenza. Questo sconto vale soltanto se comprate da privati, quindi chi vi vende la casa, non importa se c'è un intermediario, che è un'agenzia immobiliare, ma l'importante è che il venditore, il venditore finale, il possessore attuale della casa, sia poi un privato. Se lo comprate da privati, avete un bello sconto sull'imposta di registro ipotecaria e catastale, che, insomma, non è tantissimo, però qualche 100 euro ve lo risparmiate. Ecco, se invece comprate da costruttore, che c'è differenza quando comprate da un costruttore, cioè una società che ha costruito un immobile e vende direttamente lei la via appartamenti, dovete sapere che in questo caso non potete godere delle agevolazioni che ci sono standard, ma vi pagate l'IVA, oppure un 9%, oppure vi pagate l'IVA sul prezzo di acquisto. Ecco, dovete sapere che in questo caso se avete un'ISA che non supera i 40.000 euro, potete detrarre l'IVA, ok? Avete un credito di imposta sull'IVA. Questo vuol dire che quando poi voi prendete la vostra busta paga ogni mese, e ci pagate le tasse, come tutti i cristiani, sulla busta paga, potete detrarre da queste tasse un pochettino, per un po' di anni, per dieci anni se non ricordo male, l'IVA che avete pagato quando avete comprato questa casa dal costruttore, perché vi lo ripeto, quando comprate la casa da un costruttore, non pagate una percentuale sulla rendita catastale, ma pagate o una percentuale più alta, anche il 9%, oppure pagate l'IVA sull'immobile, ok? Quindi questo è interessante da sapere, perché bisogna sempre tenere presente, forse qua potremmo fare una live interessante, che ci sono tante persone che dicono che non bisogna comprare la prima casa, e non bisogna fare un mutuo per la prima casa, e invece questa cosa è sbagliata, ok? È molto sbagliato dire questo, può essere un problema se il mutuo di cui avete bisogno sulla prima casa è enorme, è veramente enorme, allora sì, è un problema perché vi condanna per tantissimi anni a dover pagare, magari non ce la fate, poi vi pignorano la casa, eccetera, ma se invece vi serve soltanto una parte dei soldi, un po' chi li avete risparmiati, un po' che li danno ai genitori, eccetera, allora è un'ottima idea, e lo ripeto, lo sottolineo e lo sposerò sempre a questo concetto, un'ottima idea contrarre un mutuo per acquistare la prima casa, ok? Ma andiamo avanti, bonus trasporti pubblici, ok? Sono una quindicina questi bonus, allora se avete un reddito, sempre in base all'ISO ovviamente, che arriva fino a 35.000 euro, allora potete avere un bonus sui trasporti pubblici, quindi sull'abbonamento che fate ai mezzi di trasporto, quindi la metropolitana, Milano, Roma, Torino, che utilizzate per andare al lavoro, piuttosto che il treno, piuttosto che l'autobus che vi serve ogni giorno, potete avere un bonus che copre il 100% della spesa, però con un massimo di 60 euro, ok? Sul bonus dei trasporti pubblici, e questo bonus è valido fino a dicembre 2022, quindi insomma un bonus di 60 euro non è male, è una cifra che potete avere e se avete pagato un abbonamento annuale che magari vi costa, non lo so, 100 euro, 200, 300 euro, non lo so quanto costino gli abbonamenti alle metro, nelle grandi città, io vivo in un piccolo paesino di montagna, quindi queste cose non le conosco, ma se avete speso, se avete speso 200, 300 euro per farvi l'abbonamento, sapete che se avete un ISE inferiore a 35 mila euro potete farvi rimborsare fino a 60 euro, ok? E c'è tempo fino al dicembre 2022 per questa cosa. Bonus bollette e bonus sociale, ok? Allora questo è per i poverissimi, per le persone che hanno veramente pochissime entrate, pochissimi guadagni, perché dovete avere un ISE che è inferiore a 12 mila euro, ok? Quindi se siete dei single, un ISE inferiore a 12 mila euro, praticamente siete nella no tax area, vuol dire che guadagnate meno di 11 mila euro l'anno, quindi guadagnate più o meno mille euro al mese, una cosa così, 900 euro al mese, una cosa di questo tipo qua, quindi comunque si guadagna molto poco, ecco, persone che guadagnano molto poco hanno un ISE di questo tipo, dopodiché l'ISE dipende anche da altre cose che avete, possedimenti, altre rendite, ok, ma qui il calcolo si complica, noi la facciamo semplice per capirci. è un bonus sulle bollette, esatto, OBS Ninja, quando il bonus per i bonus, esatto, perché sono, veramente ormai abbiamo una quantità di bonus assurda, il che dopo possiamo fare anche delle considerazioni su questo, OBS. Allora, questo bonus sulle bollette viene applicato in automatico, quindi non dovete fare assolutamente niente, se non, naturalmente, aver fatto l'ISE, se non aver fatto l'ISE, perché se non fate l'ISE non vi viene applicato in automatico, perché sennò lo Stato non sa quanto siete poveri se non fate l'ISE, ok? Quindi, quindi, cosa dovete fare? Se avete questo ISE sotto 12.000 euro, sapete che in automatico vi verrà applicato un bonus sociale, e quindi vi verranno ridotte le bollette, la riduzione è in percentuale, quindi non si può stabilire una cifra con precisione, ma dovete essere in regola con la presentazione del DSU. Che cos'è il DSU? Lo potete trovare sul sito dell'INPS, ok? Scrivete su Google INPS DSU oppure come compilare la DSU. La DSU è la Decorazione Sostitutiva Unica, ok? Ok? Non entriamo nel dettaglio adesso, comunque è un qualcosa che fate funzionalmente all'ISE, in qualche modo. Se siete in regola con quella presentazione di quel documento, allora in automatico vi viene fatto uno sconto sulle bollette, il che è molto interessante e se siete, se guadagnate poco non dovete perderla questa cosa, perché le bollette saranno molto care ancora per parecchio, almeno fino a quando la situazione della guerra non si risolverà, il che è un'incognita, un punto di domanda enorme. Un punto di domanda enorme è che sta condizionando anche molti mercati finanziari che potrebbero andare male ancora per diverso tempo se questa situazione non si risolve, benissimo e poi noi siamo quasi alla fine c'è ancora il super bonus 110% con il quale tra l'altro personalmente sto lottando molto perché lo sto cercando di applicare all'immobile che ho, sapete che è un immobile in affitto però è interessante sapere che il super bonus 110% è stato è stato prorogato fino alla fine del 2022 non ci sono vincoli per i condomini per le le case multifamiliari non ci sono vincoli c'è solo hanno aggiunto soltanto un vincolo per le villette le ville e le villette quindi le case singole che possono avere il super bonus 110% che devono completare i lavori almeno per il 30% ok quindi qui se poi viene un controllo naturalmente stabilirà poi il funzionario dell'agenzia delle entrate se il lavoro complessivo stabilito non è del 30% se quello che hai fatto non è del 30% rispetto al complessivo stabilito e questo 30% deve essere deve essere fatto l'intervento entro il 30 di settembre Albi dice attenzione non è confermato entro settembre va bene ok queste sono le notizie che ci sono ad oggi in questo momento ok in questo momento sembra che entro il 30 di settembre bisogna avere almeno completato per il 30% i lavori e se li hai completati sei a posto puoi prendere il bonus se no te lo tolgono il bonus e forse magari ti danno anche una multina comunque diciamo che è interessante sapere che è confermato per tutto il 2022 poi 2023 non si sa però diciamo che se la fine è quella del bonus facciate facile che venga ridotto ciao Carlo al nostro caro commercialista Francesco un cordiale buonasera ciao Carlo oggi live veloce almeno almeno poi diciamo per questo tema ok poi abbiamo il bonus facciate questo è il bonus facciate se non potete fare il 110 perché casa vostra o il condominio dove siete è un disastro rispetto a rispetto alle planimetrie rispetto a quanto depositato il catastro le finestre sono più grandi le scale sono storte ci sono locali che non avete dichiarato è un casino quindi non volete mettere a posto catastralmente parlando il vostro immobile per poter accedere al 110 che questo è un vincolo che vi dà il 110 di essere a posto e di non aver fatto abusi eccetera potete però invece accedere al bonus facciate che non richiede non è così fiscale diciamo potete farlo anche se la vostra abitazione non è proprio perfettamente a posto diciamo con con il catastro ok e questa è la bonus facciate potete rifare le facciate comprese anche i poggioli e altre cose esterne dovete però essere le facciate però devono essere in un centro abitato deve essere fronte strada questa è un po' una regola dell'immobile ok perché serve per il decoro urbano in qualche modo allora fino alla fine del 2022 avete la possibilità di avere il bonus facciate purtroppo non è più al 90% io l'ho fatto il bonus facciate l'anno scorso abbiamo anche finito già i lavori e ci siamo rifatti di un condominio una facciata gigantesca bellissima che sarebbe costata tantissimo invece alla fine è costata in tutto ad ogni inquilino tipo 300 euro 400 euro in tutto rifacendo anche i poggioli una cosa ridicola purtroppo non è più al 90% come non ho soffritto io è una detrazione del 60% invece adesso che comunque non è male non è male però non è più purtroppo quel bel 90% si può come sempre richiedere lo sconto in fattura oppure l'accessione del credito qual è la differenza? la differenza è che lo sconto in fattura vi trovate già con la fattura decurtata del 60% e ci pensa l'impresa poi a recuperare il credito dallo Stato come fa non ci interessa oppure attraverso l'accessione del credito che invece o si cede il credito ad un istituto finanziario ad una banca per esempio oppure lo si recupera si paga tutto si paga al 100% e poi al 60% si recupera come detrazione IRPEF sulle tasse che poi a questo punto non pagheremo in busta paga oppure sui soldi dichiarati dai libri professionisti eccetera 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 albi dice DSU è un modulo che trovi online soggetto dell'Inps è un'autodichiarazione che devi compilare attenzione ai dati inseriti perché si rischia penale poi viene usato anche per il reddito di cittadinanza se non siete grazie per la precisazione se siete in dubbio andate a farvelo fare da un CAF ok il DSU chiedete un appuntamento al CAF e ve lo fate fare da loro non so se è gratis farlo da un CAF però sapete che al massimo pagate 50 euro siete poverissimi i CAF vi fanno la metà anche dei soldi bonus ristrutturazione questa sera è una carlata di bonus micidiali ragazzi però mi andava di farvi un po' il punto della situazione bonus ristrutturazione cosa vuol dire? vuol dire che comprate o avete una casa da ristrutturare sui lavori di ristrutturazione potete detrarre grazie su Saxonica per dirmi che il DSU è gratis grazie mille l'ADSU quanto si dice bonus ristrutturazione cosa vuol dire? che se voi comprate un immobile e lo ristrutturate oppure a casa vostra la mettete a posto tutti i lavori di ristrutturazione che sono configurabili come tali e qui vi aiuterà l'architetto vi aiuterà il geometra che vi farà appunto l'inizio lavori la sicurezza eccetera a capire quali lavori rientrano avete una gettazione fiscale del 50% del totale quindi spendete 40.000 euro per rifarvi un appartamento di 200 metri quadri ok no scusate di 80 metri quadri più o meno sono queste le cifre per 80 metri quadri rifare finestre i pavimenti sistemare un po' il bagno spendi sui 40.000 euro dipingere eccetera anche arredarlo magari riarredarlo magari anche avete una gettazione fiscale del 50% sul totale gettazione fiscale il che vuol dire che sono soldi che non vi togono dalle tasse che pagate o in busta paga ogni anno ok soldi che non vi tolgono più dalle tasse cioè invece di prendere una busta paga di 1100 prenderete una busta paga di 1300 perché quei 200 di tasse che prima davate allo Stato non ve li tirano via perché avete questa detrazione fiscale ok del 50% ok e c'è un tetto massimo di 96.000 euro quindi se spendete più di 96.000 euro per ristrutturare l'eccedenza 90 quei 1000 euro in più 2000 euro in più 10.000 euro in più che spendete quelli non li potete mettere in detrazione ok bonus ristrutturazione continua attenzione perché rendetevi conto quanto può essere interessante per un giovane per esempio chiedere un mutuo che i tassi sono ancora bassi non saranno per molto ma sono ancora bassini i tassi dei mutui avere le detrazioni sulle tasse che pagate in fase di acquisto detrazioni sulla prima casa e poi detrazioni sulla ristrutturazione ok quindi molto interessante molto interessante comprare una prima casa se si sanno tutti i bonus che ci sono ok molto più interessante che andare in affitto in questi casi poi c'è anche il bonus idrico e il bonus bagno ok bonus idrico e bonus bagno allora cosa vuol dire vuol dire che se rifate i bagni ok potete prendervi un po' di soldi non sono tanti rifare un bagno costa più o meno dagli 7000 parlo delle cifre della mia città che è Trento più o meno dai 7000 fino ai 10.000 euro rifare un bagno di dimensioni medie ecco di questo si parla con finiture medio-alte però se sostituite i vasi in ceramica se sostituite la rubinetteria i soffioni della doccia insomma tutti quei pezzi che in qualche modo sono volti ad un risparmio idrico ok e qui poi chi vi vende i pezzi o chi vi fa i lavori saprà sicuramente a dirvi queste cose ok ma se il rifacimento del vostro bagno alcuni pezzi permettono almeno sulla carta diciamo o sono riconosciuti come tali per cui puoi ottenere un risparmio idrico allora sai che puoi avere un bonus fino a 1000 euro per rifare il bagno quindi non è male vi regalano perché sono bonus questi questo non è di attrazione IRPE è proprio un bonus regalato vi danno fino a 1000 euro e qui non c'è tetto ISE non c'è niente ok l'importante è che sia una riqualificazione volta a ottenere un risparmio idrico e poi c'è forse questo è l'ultimo ancora il buon vecchio bonus mobili ed elettrodomestici ancora una volta molto interessante sempre per chi compra un appartamento lo ristruttura un giovane che vuole arredarsi l'appartamento perché deve sapere che il 50% dei mobili e degli elettrodomestici del prezzo dei mobili e degli elettrodomestici te lo ridà lo stato te lo ridà lo stato ok quindi arredi la casa ti costa la metà compri elettrodomestici nuovi per l'appartamento che però sempre in un contesto di ristrutturazione ok metà dei soldi metà dei soldi te li dà lo stato ecco BS Ninja dice ad esempio rubinetti e miscelatori mettono un riduttore riduttore per evitare uno spreco di acqua grazie mille per le precisazioni quindi ancora una volta molto interessante comprare un appartamento quanti vantaggi ci sono a comprare appartamenti da ristrutturare ragazzi invece che comprare case nuove se volete fare un investimento immobiliare comprate cose da ristrutturare questo è fondamentale ma anche per voi per andare a viverci molto meglio comprare cose da ristrutturare allora se compri un appartamento oppure vuoi ristrutturare il tuo appartamento e compri dei mobili per la casa e degli elettrodomestici che però devono essere di classe energetica A più ok e nel caso dei forni e delle lavasciuga basta che siano A basta che siano A allora i soldi che spendete 50% vi ridà lo Stato la spesa massima che potete fare è di 10.000 euro se sforate spendete di più l'eccedenza ve la pagate voi non potete mettere in detrazione quindi il massimo che potete mettere in detrazione sono 10.000 euro questa cosa vale perduta dal 2023 fino al 2023 alla fine del fino alla fine scusate del 2023 2023 fino cosa avevo scritto qua mi sono sbagliato 2023 fino alla fine 2024 ah ok ok vale per quest'anno scusate poi è stato prorogato per il 2023 e anche per il 2024 ma a quel punto il tetto massimo è 5.000 euro non sarà più 10.000 ok quindi quando insomma bisogna agire è un buon momento per agire ok prima che i mutui crescano troppo eccetera è un buon momento per agire per sfruttare questi bonus il limite ISE per il bonus bollette è 12.000 saxonica 12.000 ok arriviamo alla fine questo è il bonus verde perché udite udite c'è una detrazione IRPEF del 36% che non è tanto però sputiamogli sopra se rifate il giardino ok se sistemate il giardino tipo che so vi comprate i rotoli di erba per esempio per il giardino oppure fate l'impianto in riguo tutte le zone verdi di aree scoperte private si parla ok zone verdi di aree scoperte private quindi giardini che avete eccetera e avete una detrazione IRPEF del 36% quindi voi vi comprate l'erba del prato vi comprate fate un nuovo impianto in riguo fate dei lavori per farvi un orticello eccetera sapete che su una spesa massima di 5.000 euro l'eccedenza ve la ciucciate come sempre potete poi chiedere una detrazione IRPEF del 36% benissimo è chiaro ok questi sono i bonus questi sono tutti i bonus che ci sono adesso rispondiamo a un po' di domande se ne avete se volete fare qualche domanda rispondo a qualche domanda vostra in tema e invece gli amici di youtube che non ci seguono su twitch si perdono le risposte alle domande